Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La rete di consulenti vita di AXA Assicurazioni è una rete di nicchia, frutto di un'ottima selezione e questo per me è un vantaggio. Qui non sai solo un numero, ma hai parecchie occasioni di visibilità. L'offerta formativa è eccezionale e poi, se ho bisogno, posso addirittura avere a disposizione un docente tutto per me. Basta chiederlo. Sono pronto ad affrontare sfide impegnative, ma anche le trattative difficili con l'aiuto del mio coach non mi spaventano. È un po' come fare il trapezista, ma con una rete di protezione. Mi piace sapere che il percorso di crescita che mi aspetta è veramente basato sulla meritocrazia. Qui, quello che conta è il tuo talento commerciale e la qualità del tuo lavoro. La chiave del successo in questo lavoro è saper ascoltare le persone, capire le loro esigenze, insomma, mettersi nei loro panni. Il mio lavoro non lascio nulla in caso. La mia capacità organizzativa è stata decisiva per entrare a far parte del team di Tudor per consulenti junior. Sono stato per tre anni consulente vita senior e poi sono diventato coagente con un mio portafoglio. Volevo decidere io come crescere professionalmente e con AXA ho potuto farlo. È un po' come piaccia che chiude la mia cliente con un'amore di Tudor per diva. Paola di Tudor per comunicare, capire le persone, capire le persone, capire le persone, capire le persone che li ho i palmi. Con un'amore di Tudor per hai capacità di colere, capire le persone, sape le persone che trolle e persone che non può fare. in tivero le persone che inizia con un'amore di Tudor per un'amore di Tudor per un'amore. Il mio background è tipicamente da consulente di vendita, che gestisce la tua giornata in maniera completamente autonoma. Ma quando si diventa coach, tutto cambia. Si deve lasciare lo spirito individuale alle spalle e cominciare a pensare ed agire in termini di squadra. Mi piace il contatto con le persone e non ho paura a mettermi in discussione. Fare il coach è un po' tutto questo, più una buona dose di conoscenza del mestiere e del mercato assicurativo, ovviamente. In un gruppo internazionale come AXA ho occasioni di visibilità e questo favorisce un percorso di carriera diversificato. Il gruppo è solido e l'azienda investe costantemente nel mio percorso di crescita. Ho scelto AXA Assicurazioni perché il contratto che mi hanno offerto è tra i migliori del mercato, perché mi hanno coinvolto attivamente nei processi interni e soprattutto perché mi hanno dato la libertà di mettere un pizzo del mio stile personale nella gestione del mio team. Grazie a tutti!